Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate perché questa è la parola di Dio, dell'iddio vivente e vero che ha fatto il cielo, la terra e il mare e tutte le cose che sono in essi. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Cristo Gesù, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Dunque, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, essendo in forma di Dio, non reputò rapina o non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio. Infatti, il Figlio di Dio era Dio. Infatti, la Sacra Scrittura afferma in maniera inequivocabile che nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque, il Figlio di Dio, che era Dio da ogni eternità, che cosa fece? Annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Infatti, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, dice l'Apostolo Giovanni, piena di grazia e di verità. E continua sempre Giovanni dicendo, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito, venuto da presso al Padre. Ecco che Dio Padre ha dunque mandato il suo figliolo nel mondo in carne, simile a carne di peccato. E questo ha motivo del peccato. Perché? Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo per offrire se stesso in sacrificio a Dio. Sì, proprio così. È venuto nel mondo per dare se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odore soale. E tutto questo a motivo del peccato. Infatti, Egli diede la sua vita per noi per espiare i nostri peccati. Ecco perché Dio ha mandato nel mondo il suo figliolo in carne, simile a carne di peccato. A motivo del peccato. Affinché, mediante il suo sacrificio, il Figlio di Dio annullasse il peccato. Egli, infatti, si fece ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Perché noi sappiamo che Gesù fu crocifisso. Morì per i nostri peccati. Egli si caricò dei nostri peccati nel suo corpo per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante il suo prezioso sangue. Ecco perché si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. E tutto questo perché era stato naturalmente preannunziato che dovesse avvenire. Cioè, il Cristo, o il Messia, doveva morire per i nostri peccati. Il profeta Esaia, infatti, aveva detto Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco dunque, lo ripeto, la ragione per cui Gesù si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Per amore nostro. Per, appunto, per i nostri peccati. Affinché, mediante il suo sangue, i nostri peccati fossero espiati. Dunque, vi annunzio che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Vi annunzio anche che Egli fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture. Sì, anche qui affinché si adempissero le scritture profetiche, secondo le quali il Cristo doveva risuscitare dai morti. Era impossibile, era impossibile che il Cristo fosse dalla morte ritenuto. Infatti, perché era impossibile? Perché si dovevano adempiere queste parole di Davide, il dolce cantore di Israele, che aveva preannunziato, appunto, in questa maniera, la resurrezione del Cristo. E anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Di chi parlò? Di che cosa parlò? Davide. Egli, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Noi vi attestiamo che Gesù Cristo, appunto, risuscitò dai morti il terzo giorno, affinché si adempiussero la scrittura. Quindi queste scritture si sono adempiute. Gesù Cristo è veramente risuscitato dai morti. E dopo essere risuscitato dai morti si fece vedere dai suoi discepoli e egli si manifestò ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Perché Gesù risuscitò? Risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dunque, affinché noi ottenessimo la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, ossia affinché noi fossimo giustificati. Dunque, ecco la buona novella che il Signore ha ordinato di predicarvi, affinché, credendo in essa, voi otteniate la salvezza dei vostri peccati, la remissione dei vostri peccati, la giustificazione. Siate riconciliati con Dio, otteniate la vita eterna in Cristo Gesù, il Signore. Dunque qualcuno dirà, ma allora è tutto per grazia? Sì, è tutto per grazia. La verità e la grazia sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Io vi annuncio la grazia di Dio che è in Cristo Gesù. Dunque, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, affinché il Signore abbia misericordia di voi, perdonandovi, salvandovi, giustificandovi, riconciliandovi a Lui. E poi affinché scampiate in questa maniera alle fiamme dell'inferno, di questo luogo di tormento dove voi siete diretti, perché voi siete senza Cristo, senza Dio nel mondo. Siete sotto il peccato e quindi figlioli d'ira sulla via della perdizione. Ma io vi annuncio il ravvedimento e vi annuncio l'Evangelo affinché voi vi ravvediate, affinché voi crediate nell'Evangelo e credendo nell'Evangelo siate salvati, perché il mio desiderio è che voi siate salvati. Il mio desiderio è che voi siate giustificati, perdonati, riconciliati con Dio e che scampiate appunto a questo luogo di tormento che è l'inferno, dove vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi ricordatevi appunto, tenete bene a mente l'Evangelo che vi ho annunziato e credete in esso, credete in esso affinché veramente siate salvati. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Sappiate dunque che credendo nell'Evangelo l'uomo viene salvato, l'uomo viene giustificato tutto naturalmente gratuitamente, gratuitamente. Ravvedetevi dunque e credete nell'Evangelo della grazia di Dio. Ricordatevi, Gesù Cristo, il figlio di Dio, essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso, facendo subbediente fino alla morte, alla morte della croce. Già, fino alla morte della croce, ma Gesù Cristo, dopo essere stato ucciso per crocifissione, egli risuscitò dai morti. Egli vive nei secoli dei secoli. In questo momento, mentre io vi sto parlando, Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre, dove intercede per i santi. Sì, ecco dove è Gesù. E dovete sapere che angeli principati e potenze gli sono sottoposti e che tutti gli angeli di Dio lo adorano. Infatti Dio ha comandato che tutti gli angeli lo devono adorare. E di fatti lo adorano, come lo adoriamo noi, Suoi discepoli, perché Egli è Dio benedetto in Eterno. Quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo e il Signore avrà misericordia di voi. Chi ha orecchi da udire, oda. Grazie a tutti.